La carità di Cristo, accolta con cuore aperto, ci cambia, ci trasforma, ci rende capaci di amare, non secondo la misura umana, sempre limitata, ma secondo la misura di Dio. E qual è la misura di Dio? Senza misura. È la riflessione offerta da Papa Francesco prima della recita dell'Angelus nel giorno in cui in Italia e in molti altri paesi si celebra la festa del Corpo e Sangue di Cristo. Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa e ci nutriamo del Corpo di Cristo, ha chiarito il Pontefice, la presenza di Gesù e dello Spirito Santo in noi agisce, plasma il nostro cuore e ci comunica atteggiamenti interiori che si traducono in comportamenti secondo il Vangelo. Così nei discepoli del Figlio di Dio fiorisce il coraggio della testimonianza cristiana, la fantasia della carità, la capacità di dare speranza agli sfiduciati, di accogliere gli esclusi. Solo se ci si assimila sempre di più all'esempio del Maestro, a concluso Papa Francesco, diventiamo capaci di amare anche chi non ci ama, di opporci al male con il bene, di perdonare, di condividere e di accogliere.